Siamo in Piazza Duomo, davanti al palco. In realtà perché stiamo aspettando Kenza, che chissà chi è, nessuno a parte med, hai presente quello del TG che si mette indietro così? Mi sento troppo l'unico! Una svedese, una svedese, una modella svedese che viene qua in Italia per Jema come ogni anno, io ho paura di questi piccionini che mi sto vedendo addosso. E niente, ha dato appuntamento a noi ragazze qua per incontrarla. C'è una cinete che ci è caduta davanti. Dove, ma lo ha visto. Dove, ma lo ha visto. Buon appetito! Abbiamo fatto! L'abbiamo visto? No, grazie! Per la decima volta! No, grazie! Non lo vogliamo questo bastone da selfie! Ce l'ho già! Marta c'era già il bastone! Sì, in caso non si fosse capito! L'abbiamo vista, è stata carissima! Adesso è ancora qua insieme ad altre 80 persone cercando di fare foto con tutti meno male che siamo arrivati prima perché sennò siamo stati praticamente 10 minuti solo noi a parlare! La sua assistente è blogger? Anche lei? No, l'aiuta nella linea di Vestiti Ci ha fatto un mucchio di foto mentre stavamo parlando con lei Spero che non si vedranno mai! Sì, anche perché io sarò venuta malissimo lei sarò venuta come gli angeli in terra Lui ha detto no, no, speriamo no Voi vedete la pelle? Speriamo di vederla domani Il trucco perfetto! E poi arriviamo noi Che come si può vedere Tra l'altro non è proprio il mio lato questo Giriamo Molto meglio! Anche questo forse è il mio lato Votate nei commenti! Se mi piace lui mettete un like Facciamo un like E niente Siamo ancora qua Adesso ho preso il pastore dei selfie quindi mi sento molto importante E' molto figa fare questi video Allora la c'è ancora senza Tipo in mezzo Si vedrà un ciuffolo Eccola lì Cioè dietro questa ragazza Che bello indicare nei video così Mi piace tantissimo Dov'è che cosa? Qua da qualche parte Eccola 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 Cioè è bellissimo anche di stare così Non è normale questa cosa Che invidia Che invidia potente Invece noi ci vediamo benissimo contro sole Perché così non si capisce bene La nostra faccia Posso fare la foto nel video se ti interessa Guarda Ecco basta Intanto non so se vedete Ma ci sono dei ragazzi Si appostati Ok Ciao Marta Grazie Ciao C'è anche un servizio fotografico nel tempo Giusto perché Il bello è che lasciamo una modella e ne troviamo un'altra Sì ma io non è che Sì vabbè questa è seria Questo sta facendo un servizio Eh ma no Grazie Clari per averci l'ho detto Ce n'è anche un'altra lì Ok siamo arrivati Alla Mondadori Cioè Mondadori Noi praticamente mangiamo quasi sempre qua quando siamo a Milano Così E Penso che ci prenderemo qualcosa Di molto freddo Perché stiamo morendo E guarda che bello Ho detto almeno c'è il Duomo là Un quadro Piacere Puro e freddo Piacere E niente abbiamo visto Kenza È carinissima Beh è carinissima È fighissima diciamocelo E niente basta siamo state un po' di parlare Gentilissima In inglese ormai me lo sono dimenticato Cioè Però vabbè c'è la Clari che teneva banco lei E sono arrivata Uff sta colando Dove? Sono arrivati i nostri qua Bello Vanno indiosi Devono essere di una bontà sfuga Clari l'ha già bevuto Come potete vedere il mio è ancora untouched Sono arrivate E niente C'è un primo piano nella tua faccia Sì 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 Vi voglio dire una cosa Vloggando? Vabbè Adesso stiamo cercando I ragazzi della Funwalk Siamo al Colone San Lorenzo E fare un bel aperitivo E mangiare come dei maiali Ti vede un cavolo Non si vede proprio niente Ce l'abbiamo fatta Stiamo facendo l'aperitivo Saluta Eli Elisa Oh scusa È un video No Ma l'ho acceso L'ho acceso L'ho acceso adesso Ciao 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 Super awesome For the last few years And we just wanted to say thank you to you And your good job You're always there We are so happy to have you And we prepared something Actually this is for you Sarah Laura And Andrea For editing the most beautiful video ever Thank you so much for doing this like all the years Every year again This is me Yeah this is you And not everybody has the time to sign it So if anyone wants to sign the books Please do so I have them And if anybody wants to give coins To me Give it to me And um Thank you so much You are the best girls in the world But we won't forget our best host ever We're Simone Yay They got a small book to you Unfortunately You have not been to so many reunions So We had not so many pictures So it's a small book You know Thank you so much And you know There was one guy Who took like 4 days Arranging those books And that was Joey Thank you 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 I'm happy to have you here Have a great weekend I love you all I love you all By Power Crowley Cheers 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 Oh, the Chloe Appena inizia un video Inizia subito a parlare Se non ci sono io Nel video è pointless Vabbè Alla me Useless Fare un video Praticamente Adesso stiamo Abbiamo finito questo aperitivo Che è durato più del previsto Infatti ci siamo persi Duran Duran In Duomo Adesso Andando mi stanno guardando Ti male Comprese le mia nuca Stiamo andando Non si vede un cavolo Vabbè Ciao Iscrivetevi Iscrivetevi Rucola 88 Rucola Non è rucola Lei è vegetariana Ma che cazzo dici Ma ho la faccia da vegetariana Comunque Stavo dicendo In tutto ciò Non c'ho più neanche voce A fuori di parlare con chiunque Che noi stiamo andando In Duomo I Duran Duran li abbiamo persi Che bello inquadrare Mela Clari Sempre Mela Clari oggi Sì È così che va Oggi sono il suo clown E sta suonando Ellie Golding Da quello che ho ben capito Ma ci stiamo prendendo pure lei Quindi alla fine Punteremo sui mingoni Avete presente Fabio e Mingo Sì Io sono Mingo In questo momento Io sono Fabio Esatto Bene Mingo Bene Mingo Vabbè Tutto ciò stiamo camminando alle colonne Insomma Giusto per far capire un po' dove siamo A Milano Io non c'ho più voce ragazzi Oh sbaglio Sono allucinata o sento Ellie Golding cantare? Si è allucinata perché c'è la musica di questo posto C'è la musica di questo posto Dietro c'è Ellie e la fede Che forse ce lo aggiungeranno E niente La prossima volta vedrò di fare un video anche per walkers Così almeno ha un senso questo Questo vlog a caso Di momenti a caso Di tutta la giornata Meno male che c'è stata Kenza No non ancora No non ancora E i biglielo Si ma tanto non capiscono niente in italiano Eh vabbè Sono 60 followers in più Ah perchè poi non ha 60 subscribers Sì A caso Così Vabbè niente Adesso andiamo in Duomo Vediamo cosa faccio da vedere Faticamente E' già fatti con me E' meglio tagliare la canzone Sì Con la spesa E' bello Tom C'è anche i campi di sole Non serve l'amore Se voglio diventare C'è l'eserroio E' l'eserroio E' l'eserroio E' l'eserroio Guarda Manny E' lì Ma cosa fa questa cazzuna? Stai vloggando? Ciao! Eroine! Eron? Eroine! Ah, Eroine! Allora! Io devo trovare Schröder! Il mio amico Schröder! Mi ho incantato! Aless! Non mi hanno avuto! C'è una villa che sarò io nel futuro è IMAs del tipo del tipo 60 IMAs del 60 riscorreranno i tocchiotelli e stanno espursiando Eh! 2 anni! Muammai! Muammai? Questo basso! Non erano Bootstock! Non abbiamo capito una verga! Ma è ancora ORR! Le escuzioni su bootstop. Lei è molto seria e molto presa da questa canzone. Lei è molto seria e molto presa. Oh Questa è l'ariccia di merda L'Elisa è scomparso perché mi voleva fare le sue foto Siamo andando, abbiamo visto il giorno che beveva praticamente una grande serata Grazie 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 Grazie